E' stato un lungo weekend di festa, quello che è appena trascorso a Portofino, culminato domenica 22 maggio nella celebrazione delle nozze tra Kourtney Kardashian e Travis Barker, in perfetto stile Kardashian. L'evento si è svolto nella villa di lusso degli stilisti Dolce e Gabbana, all'Olivetta, in località Portofino. I due stilisti hanno curato l'outfit degli sposi e di tutti gli invitati. Lo sposo, Travis Barker, ha indossato uno smoking con dettagli in raso e seta, doppio petto, lavorato a mano. La sposa ha indossato un abito d'alta moda con corsetto di pizzo bianco, seta e raso e un velo ampio in tulle ricamato a mano con immagini sacre della Madonna e decori floreali ispirati ai fiori dei giardini di Portofino. Per l'abito della sposa gli stilisti si sono ispirati alla Dolce Vita e alle figure iconiche della lingerie italiana. Si tratta della terza celebrazione di nozze, in ordine temporale, infatti le prime promesse erano state scambiate da Courtney e da Travis a Las Vegas dopo la cerimonia dei gremi, in perfetto stile americano. Una seconda celebrazione era avvenuta a Santa Barbara la scorsa settimana, una prova prima della celebrazione civile. Anche questa volta erano presenti le famiglie al completo, ospiti al Castello Brown, storico edificio con vista sul golfo. Se questo video ti è piaciuto lascia un like, scrivi un commento o iscriviti al canale. A presto per fare quattro chiacchiere sui nostri personaggi preferiti.